rieccoci ragazzi bentornati a tutti sul canale di nico in game dunque mi sto dirigendo verso la prossima missione muri muri ok grande che si trova qua però io vorrei andare prima qui ragazzi quindi vabbè sentite non ho tempo da perdere con vuoi ma eh sì certo oh 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 autoscontri via una zona di accarraggio ci farebbe comodo sì la morte sta avvenendo a prenderti ma dove sta che nasconda cazzo orrice pulizia base delta completata pulizia base delta completata si adesso andiamo solo che c'è qualcosa da raccattare ah ecco ok dai andiamo verso la e vabbè qua al pindacolo andiamo al pindacolo va 3 a dritta 1 a bambordo motori principali fuori uso rapporto sulla portaggio impossibile dirlo supponiamo di non avere tempo l'arma è pronta quasi siamo ancora al nessun quasi guardia marina ora o mai più avvii subito lo schieramento ok sto per presentarti il mio paratango cazzo oh compagno vieni dai sali ci stiamo ribaltati malissimo andiamo andiamo siamo vicini entra nella struttura dei percursori siamo al pindacolo ragazzi io scendo qui vieni con me no vabbè andiamo a cannone ci buttiamo a cannone qui ma si uhu vai vai questo è lo spirito giusto andiamo ammazziamo di tutti cosa però se scendi ecco dai visto che ci sei minchia cacciatori cacciatori questi mi spaccano il culo no lascia perdere sbarazzati di loro così potremo adesso niente munizioni infinite metta sono tosti sono tosti via 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 mi raccomando stai attento oh attenta niente è morta te ne affanculo te ne affanculo porca miseria aspetta organizziamoci un attimo beh fottuto scudo di merda aiia aiia ok mi dai qualcosa un'arma niente aiia no 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 Via, via! Morto? Morto, grande, grande! Attiviamo l'ascensore gravitazionale. Adesso l'attiviamo, un attimo. Come organizzare? Hmm. Non sembra un protocollo originale degli esiliati. È più robusto di quanto mi aspettassi. Quindi? Nessun problema. Ok. Dove stiamo andando? Ci siamo. Siamo al pinnacolo. Ok, va bene. Wow! Questo posto è... Esattamente come te lo immagineresti. A cosa serve? Non saprei. Trovami un punto di accesso e proverò a scoprirlo. Sicuramente non saremmo soli. Ci siamo. Fammi entrare lì dentro. Interessante. Questa struttura è stata attivata usando uno dei protocolli più vecchi che io abbia mai visto. Ehi... Lo sa che noi siamo qui. Benvenuti, benvenuti! Oh, salve. Sono Agiutant Resolution. Monitor secondario di questa installazione. Leale servitore di Despondent Fire. Che deve essere indisposta se sono stato attivato. L'avete vista? Più o meno. Glielo dici tu? Dirmi cosa. Monitor andato. Andato? 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 Non siamo stati... Siete sicuri? Sì, certo. Non c'è tremo nulla. Bene. 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 Temevo non foste amichevoli. Come vedete, questo pinnacolo è stato posizionato con successo. Seguitemi. Presumo vogliate vedere la piattaforma di osservazione. E lo seguiamo. Visto? Sembra amichevole. Sì, sembra. Avete detto qualcosa? No? Allora venite, venite! Sì, se mi apri la porta magari... Andiamo. Ok. Non lo so, è tutto troppo tranquillo. C'è tanto da fare. Oh, mi dispiace. Il portale avrebbe dovuto essere attivo. Un momento. Prego, entrate nel portale. Oh, che grande. Ma dove siamo finiti in portal? Oh, uno sta nero. Oh, manca qualcosa. Oh, già la facciamo un ponte. Un attimo. Lo citiamo. Molto emozionante. Tra poco la sequenza sarà inviata e la palingenesi potrà cominciare. Oh, ass... Oh, ass... Oh, ass... Eccoci qui Come potete vedere Siamo pronti a procedere Non appena Chiedo scusa Torno subito Sì fai con calma Portami a quel terminale Siamo in alto Parecchio in alto Ci colleghiamo Oh non è così male Lo scopo di questa struttura è semplice Ricostruire l'anello Nello specifico creare i materiali Che servono per ripararlo Non succederà Perché è così incredibile Oh gli esiliati Giusto mi ero distratta un attimo C'è tanto da imparare qui Disattivala Per sempre No 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 Cosa fate? Ahia Questo è inaccettabile No E che cazzo Lo sapevo io No merda Aspetta Aia Ma Oh cazzo Mi ha disintegrato Ok dobbiamo stare attenti Molto attenti Ok uno è andato Dobbiamo distruggerli per gli affari Regolazione con solidamento energetico No no via 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 No no via 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 Ok 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 Ok. Attenzione. Occhio, occhio. No, dai. Merda c'è. Ok. Occhio, occhio. Attenzione. Sto finendo le munizioni. Via. Munizioni finite. Merda. Dove sta? Dove sei finito. Dove sei finito. Dove sei finito. Non posso sopportare. Non posso sopportare. Non posso sopportare di violenza. Dai, 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 dai. Ce la facciamo. Dove sei finito. Ridurre i ripari a disposizione di... Occhio. 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 Bella lì. Ed è andato. Eh, non era amichevole. Non era per niente amichevole. Ho delle buone e delle cattive notizie. Dimmi quella... Quante? Buona prima. Prima quelle cattive. Prima quella cattiva, vabbè. Un sacco, vedo nove... No, dieci pinnacoli e continuano ad aumentare. Attivi? No, non ancora almeno. Sembra che aspettino una sequenza di inizializzazione. Qualcosa sovraccarica la rete per attivarli, ma ci sono delle resistenze. Perché? Il protocollo che ha avviato tutto questo non era esattamente corretto, ma nonostante ciò sembra aver funzionato. Altre brutte notizie. Non posso proprio disattivarlo. Tuttavia posso rimuoverlo dalla rete. Ma certo, posso individuare l'origine dell'attacco. Devo soltanto... Aspetta. È sicuro? Ma dai, lo chiedi a me, ad un programma di infiltrazione concepito. Chi sei? Ups, credo che forse sappia... Come riesci a farlo? Spegni. Dammi soltanto un secondo. E ora. Fatto? Perché non dividere me? Che c'è? Metterlo offline non è stata una grande idea. Dobbiamo andarcene. Adesso! Estrazione immediata. Oh cielo, sei stato tu! Ora. Arrivo, arrivo. Vai! Dai! Apri! Vai! Bellissimo! Tutte quante? Tutte! Cordicate ricevute! Ah! Sembra che qualcuno abbia segnato 42 nuove posizioni! Mi sembra una follia, no? 42 sono tante! Attacco? Di che sta parlando, Chief? Vogliono ucciderti tutti! In effetti sembra sia così! Oh, aspetta! Era una battuta sarcastica! Simpatico, mi piace! Sono già morto! Devo esserlo, voglio direte! Questa è una punizione! Attenzione! 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 No! Attenzione! 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 Possibile! Eseguo un atterraggio d'emergenza! Abbio un bravo titolo! Last! Iniziale salvatore! Voi trovava! I part! L�URURURURUUTO meio Grazie.